La proposta di finanziare con un bando regionale un parco giochi inclusivo ha fatto scattare l'avviso di garanzia anche per un assessore della piccola Cigognola. Nei rivoli della clamorosa inchiesta legata da SM e Pavia, fra arresti eccellenti e scandali per i lavori nelle scuole, finisce dunque anche la vicenda di quest'opera, poi in realtà mai realizzata, sulle colline dell'Oltrepo. Secondo i PM, infatti, una consulente stabile del comune, anch'essa indagata, il 17 febbraio aveva proposto al sindaco di accedere a un bando che garantiva un finanziamento pari al 95% delle spese a fondo perduto, presentando l'ingegnere della Civiling Lab, Gianluca Di Bartolo, ora gli arresti, per la progettazione dell'opera. Il comune aveva affidato quindi l'incarico per predisporre la domanda e lo studio di fattibilità, poche ore prima della scadenza dei termini, notano gli inquirenti. Il 24 febbraio segue nelle carte dell'indagine il racconto della corsa contro il tempo per produrre tutti i documenti per partecipare al bando, in modo, secondo l'accusa, da appropriarsi di pubbliche somme. Alla fine, a mezzogiorno del 24 febbraio, i termini scadono senza che si riesca ad inserire correttamente la domanda. Nonostante nulla di fatto, entrambi i consulenti, alcuni mesi dopo, emettevano due fatture, una da 507 e l'altra da 1268 euro, che tuttavia il comune, che risulta parte offesa nella persona del sindaco, non avrebbe mai pagato. Il reato si legge nelle carte e non si è consumato perché la società è ancora in attesa del pagamento.